Buongiorno Oliver, buona domenica, lo vuoi il giochino nuovo? Vieni qua, ti guarda, il giococorda, e ti, è tuo? Da? Così non ci pensi che stai chiuso? Siamo in attesa di adozione, è vero, un bel maschietto, è vero, Oliver, mia sorella è morta in vestita, e io ho circa 5 mesi, media, taglia media, media abbondante, dai, però sono molto mansueto, amo tanto gli umani e i bimbi, è vero, vado d'accordo con tutti, beh, a più tardi Oliver.